la piaggio della mia vita a mio avviso per me è stata importantissima è stata positiva anche perché io non ho studiato a quinta elementare io a 15 anni ho cominciato a fare elettricisti e ho avuto la fortuna di poter entrare cercavano degli elettricisti avevo fatto domanda mi hanno chiamato io nel 71 sono entrato alla piaggio subito come elettricista quindi la vita per me è cambiata perché è positiva e quindi per me la piaggio è stata importante i ragazzi che finivano dalle scuole entravano in piaggio e quindi il lavoro non mancava è andato avanti parecchi anni io mi ricordo gente che entrava in piaggio dopo la pausa pranzo che avevano che avevano comprato regali che avevano avevano fatto la spesa nei negozi di finale non la considerava una fabbrica per meno una grossa industria artigianale perché ci facevano delle cose veramente favolose la piaggio era finale a 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